Mancano 24 ore alla sfida tra Salernitane e Empoli, che vorrà dire tanto per la corsa a salvezza. Una partita dove entrambe le squadre non vogliono sbagliare per dar via un cammino importante per il giro di ritorno. Sicuramente le pressioni sono più sulla formazione allenata da mister Inzaghi, costretta alla vittoria in quanto un pareggio in egual modo gioverebbe più alla formazione toscana che manterebbe la distanza di 5 punti dall'ultimo posto. Certamente il cammino finora è leggermente diverso per i toscani. Nelle ultime 5 gare l'Empoli ha ottenuto due sconfitte, due pareggi e una vittoria importante contro il Monza, al contrario della Salernitane che ha rimediato quattro sconfitte e un pareggio nell'ultima partita contro il Torino. I precedenti però non vanno a favore della Salernitana. L'Empoli non è mai stato battuto in gare casalinga nella massima serie, finì 1-1 in 1998-99, 2-2 lo scorso anno e sconfitta due stagioni fa. L'unica vittoria è arrivata in terra toscana nel 98-99 con la tripletta di Marco Di Vaglio e con la partita che finì con il risultato di 3-2. Per quanto riguarda i dati tra i due allenatori, quello di domani sarà il terzo confronto assoluto in carriera per mister Inzaghi contro Nicola. Entrambi i precedenti risalgono a stagione 2020-21 e terminarono in parità. All'epoca Inzaghi sedeva sulla panchina del Benevento e Nicola su quella del Torino.